ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi andiamo a parlare al circuito datone international speedway questa è la mappa del circuito ok il datone international speedway è un circuito motoristico situato a datona beach in florida è lungo 2,5 miglia nella disposizione del tribo ovale che ha una capacità di 168 mila spettatori è tratta di diversi tipi di gare motoristiche incluse quelle di kart e di motociclette di auto di pick up modificate di stock car l'impianto include anche un circuito stradale di 3.56 miglia è una vasta area di 180 acri che compiene il lake lloyd uno specchio d'acqua di 29 acri che ospita gare di power boat e utilizzate inoltre per il raduno annuale di esposizione scam di automobili thanks thanks giving street road uno dei più grandi del genere anche altre gare possono essere ospitate data la possibilità di utilizzare tre differenti disposizioni del circuito storia della pista la nascar è stata fondata da bill france sr è un piccolo gruppo di appassionati ad eltona beach nel 1947 in origine l'evento principale della serie doveva tenersi al dettano a beach road course france iniziò a progettare un nuovo circuito per ospitarlo nel 1953 il 16 agosto 1954 stipulano un accordo con le autorità cittadine per creare quello che divenne universalmente noto come dettano international speedway venne aperto il 25 novembre 1957 le colpe sopra levate venne realizzate con la terra scavata da un luogo vicino alla pista questo luogo venne poi riempito d'acqua ed è diventato il lloyd lake il circuito apri il 22 febbraio 1959 davanti a 40 a 41 mila persone venne rifatta la rete di protezione due volte nel 2000 un incidente distrusse la vecchia rete di protezione che era di metallo fragile nei fatti in acciaio indistruttibile nel 2009 2010 l'acciaio inizia da avere segni d'usura e venne costruita una nuova zona bandiere più venne più venne sostituita la rete delle rettellini principali di fondo la rete è sempre in acciaio ma molto più resistente nel 2012 ci fu un incidente che la rete venne riparata per la dettona 500 posticipata lunedì a casa della pioggia la pista venne riasfaltata due volte come a talladega ma nel 1978 1979 e nel 2010 2011 durante la dettona 500 del 2010 infatti una buca tra le curve 1 e 2 ha provocato due bandiere rosse e la buca ha iniziato ad ampliarsi provocando la riasfaltatura della pista l'incidente di karl larson prima della dettona 500 del 2013 ha provocato il danneggiamento di piccola parte della rete riparata per la gara da sordio del campionato sprint cup il tracciato però non era ancora completo il giorno dell'apertura mancava il guarder e la pavimentazione della pista e nel 1958 servivano soldi per completarne la costruzione così france contatto la coca cola per avere dei soldi la coca cola rispose che non sarebbe mai stato costruito in tempo per le gare rifiutandogli l'aiuto france al loro contatto la pepsi cola andando alla loro sede in carolina del nord dove ottene il finanziamento per questa ragione sui circuiti nasca che la famiglia france positiva sono state vendute solo bibite pezzi e non coca cola fino al 2008 quando la pepsi ha deciso di sponsorizzare principalmente la hendrick motorsports rivale speed scusate coca cola decidi sponsorizzare la maggior parte dei circuiti indipendenti nonché la rivale speedway motorsports dal 2008 coca cola diventerà la sponso principale della maggior parte dei circuiti isc la data 500 la gara più importante della nasca si tiene tutti gli anni alla data on international speedway disputa dalla stock car sui 200 giri equivalente a 500 miglia la lista dei vincitori parte dalla gara inaugurale del 1959 ed elenca tra gli altri richard petty e j floyd mai andretti e del air hadd la nasca maggiore organizzazione di corse di stock car in usa disputa molte delle sue gare più importanti su questo tracciato tra queste la craftsmann track series la nationwide series e la sprint cup series anche la 24 ore di daytona si tiene qui la stagione sportiva inizia da torna con i test il calendario di gara invece vede lo speed wicks abbia le danze iniziando con la 24 di daytona gara campionato grande america sports car dopo inizia la sprint cup series con i sprint unlimited e il gatto reddwell la craftsmann track series inizia con lo scherzi silverato hd 250 la nationwide series inizia con il camp in world 300 e tolana star cup nella grande corsa americana the great american race la datona 500 la sprint cup series comprende anche la coca cola firecracker 400 che si tiene in luglio a datona le luci di illuminazione nottuna sono state installate nel 1998 così da far correre la pepsi 400 di notte la muscol lighting è responsabile di questo evento ed è stato per un certo periodo di noto come il the world's largest single league outdoor sports facility prima del sorpasso da parte di l'usai international circuit comunque la gara quell'anno è stata anticipata ad ottobre a caso del fumo di alcuni incendi verificati in estate e da allora la del pepsi 800 si è sempre tenuta di notte sotto le luci artificiali nel 2005 il circuito è stato riconfigurato per poter accogliere le motociclette a cosa timore per una possibile usura regolare delle gomme i tratti parabolici dell'ovale c'è la curva 1 e 2 sono state abbassate il circuito è sede anche di una prova del campionato indie è una delle due tracce di lo sprint cup series che utilizza altri trictor per all'entaleato nella discesa dei grandi paraboliche l'altro circuito del talladega super speedway invece i due circuiti hanno diverse differenze visto che detona è più stretto e guidato di talladega e presenta anche un avvenimento chiamato dettona 500 experience lato vincitrice del tono 500 è piazzata all'interno dell'edificio della pista per un anno in the racing league nei giorni 26 settembre 27 settembre 2006 la earl ha tenuto una prova di compatibilità di 10 giri su un tracce modificato di 2,73 miglia e 12 giri sul circuito di 2,5 miglia utilizzato dalle motociclette facendo girare cinque piloti i piloti che hanno sestato il circuito sono vitor mera sam ornish jr tony canan scott dixon e dan weldon campione 2005 della indy 500 della earl è stata la prima volta dal 1959 per leato della indy e la prima volta dal 1984 per leato ruote scoperte il 31 gennaio l'uno febbraio 2007 la indy racing league ha tenuto un nuovo test con 17 partecipanti non ci sono stati annunci ufficiali ma è noto che si sta cercando di realizzare una gara su questo tracciato incidenti mortali molti nuovi piloti partecipanti incluso del ad hanno avuto le conseguenze mortali d'incidenti in auto motocicletta e power bot durante gare al daytona international speed queste morti hanno avuto l'attenzione dei media e hanno portato a molti studi sulla sicurezza frutto di questi studi sono nuovi sedili cinture sistemi di allaccio del casco muri capaci di assorbire meglio gli urti e altri miglioramenti in funzione della sicurezza gaia disputata attualmente beh queste comunque sono tutte tipo di caro le leggo comunque proprio le faccio vedere record queste faccio vedere anche altre competizioni in passato il circuito ha spinto a due gare di altre serie motoristiche come il moto mondiale che vi ha fatto tappa nel 1964 e nel 1965 disputano il gp di stadi uniti in occasione della prova del 1964 prima della gara mike islewood su mv a gusta ha battuto anche il record di velocità motociclistico dell'allora con una media di 231,9 chilometri orari e questa storia circuiti da tona international speedway se il video vi è piaciuto come sempre vi lascia un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao